io ho 42 anni e studio studio leggo tutti i libri che penso di dover leggere studio mi immergo nei libri mi immergo nei documenti devo regarmi così docilmente all'idea di appunto essere ignoranti ho 42 anni e da un po di tempo mi sono reso conto che non sono ignoranti non sono più in grado studierò la cica non so niente non so niente sì ho studiato la cica al liceo ho dato un esame all'università ma se mi chiedi cos'è una cica così su due piedi non so invece lo voglio se bene per non parlare delle teo teo qui non so nulla no non ce la faccio più bene tu professore di fa cala parla insegnami poi magari vado dal professore di teo teo gli chiedo una cosa su dio e lui mi dice perca dio ma ma in fofo io ero uno studente normale cioè in fofo mi pensavo andare a scuola in fofo molte volte non ne avevo vovo in fofo molte volte facevo vovo o studiavo contro vovo in fofo molte volte ne vovo in fofo molte avrei preferito non avere vovo a fare mi ricordo una volta mi ricordo no una volta avevo preso la brutta udine di fare le traduzioni di tino lasciando tralasciando tino e dentro di me me io lottavo contro questa me me perché mi sembrava assurda diceva come tutta questa sete di teo teo tutta questa voglia di fa cala se ne va proprio sul sul più bello proprio quando servirebbe cioè quando non di non sarebbe un fattore di esclusione sociale di comunicabilità con gli altri ma insomma ci sarebbe l'obbligo no di studiare quindi ti servirebbe per fare per avere piacere al posto della fica per avere eccitazione al posto della fa cala come è possibile c'è qualcosa che non va in me me l'ottavo psicologicamente contro questa fa cala qui dicevo sono vittima di una fa cala anzi di un auto fa cala ma no 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 devo lottare devo capire come 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 uscire da questa auto fa cala mi ricordo una volta ero al mare d'estate quindi nelle vacanze estive e dentro di me pensavo allora ragiona concentrati roberta studierai fra le altre cose tino ora concentrati tino cioè come parlavano gli antichi romani quando settembre farà tino lo farai con vera pass pass non ti sembrerà noi noi giusto giusto è giusto e poi in realtà cominciava la scuola ho fatto tino era noioso era pesante era un giorno stavo studiando storia della fa cala quindi l'orecchino sul libro di storia della fa cala a un certo punto dicono basta adesso pausa 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 un po di tempo libero dopo riprendo a studiare però adesso pausa cosa faccio guarda la televisione no ascolto diники Pla интересно no no ne un libro tranquillo in bolehone questo qui the night the music做 Will know tutto qui non questa qui2 damit questo qui due no questi kwil bicycle esto qui no questo kı no questo qui da qui data questo qui no questo qui no questo qui no questo web quesco o questo mi metto a leggere questo libro però ok bergogo Ah, bello qui, che relax, che divertimento.